Go, go! Andri, 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 andri. Andri, andri, andri. Andri, 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 andri. Andri, 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 andri. Anche lì, dammi la mano, uno in fase difensiva. Anche lì, dammi la mano, uno in fase difensiva. Questa, ora diego, ora diego a casa, che lo so, cito a sopra il centro quanto, diego a casa, diego a casa, diego a casa. Vi faccio sessi, no katana, dai, dai! Sai lì, sali lì, sali lì! Andici nella mano, sali lì. bravo Gesù c'è una propria c'è una propria c'è un po' c'è un po' si fai la ma Non so, non so. Non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Diego, 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 non serve, non serve, basta, è fallo, fermati. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so, non so, non so. bravo mariano bravo dai tu fa gol bravo a te bravo 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 dai giusei dai 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 tre da dai 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 non la buttare 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 non la buttare